Musica Progetto Turismed arriva alla delegazione europea al Comune di Trabbia. Ci troviamo con la coordinatrice del progetto Tiziana Tobia, delegata proprio del Comune di Trabbia. Esatto, è un momento importante per noi, fa parte di un'ufficialità del progetto Turismed che è stato finanziato dal programma Interregmed, programma europeo che si occupa dello sviluppo territoriale e della cooperazione tra paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Il Comune di Trabbia ci ha creduto e investito su questo progetto e abbiamo così sviluppato insieme agli altri partner europei questo modello di business fondato sulla pescaturismo che mira ad incrementare le risorse economiche dei nostri piccoli pescatori ma a tutto vantaggio della comunità locale. Si presume infatti che Turismed possa dare beneficio non solo ai pescatori che utilizzeranno lo strumento della pescaturismo ma ai paesi limitrofi, al nostro, che accoglieranno i turisti che appunto verranno qui da noi a scoprire le bellezze del nostro territorio. Sindaco Leonardo Ortolano, siamo arrivati quasi alla fine di questo progetto. Il Comune di Trabbia è capofila? Sì assolutamente, all'inizio era una bella scommessa. L'ente locale di Trabbia non aveva mai partecipato come partner a un progetto del genere, sono fondi diretti così chiamati. Per la prima volta l'abbiamo fatto addirittura come ente capofila. Quindi veramente una bella scommessa, ci siamo riusciti, è servito per adeguare le barche dei pescatori al fine di praticare la pescaturismo. Per noi è un momento molto importante, prima di tutto culturale, perché abbiamo avuto la possibilità di fare conoscere le nostre tradizioni, le nostre metodologie di pesca, tutto quello che sono le nostre bellezze naturali e culturali del nostro paese. Ma ancora di più abbiamo dato un'occasione di sviluppo ai pescatori, al territorio, perché è un'alternativa appunto per l'operatore del settore di promuovere la pescaturismo a fine che si crei appunto l'occasione per qualche utente, per qualcuno che si occupa di turismo, che crede in quello che praticano con questo progetto, ma oltre al progetto, perché il progetto era soltanto una fase di accompagnamento per quanto riguarda tutto quello che è un qualcosa che deve combinare con i propri piedi. Siamo arrivati alla fine per quanto riguarda il progetto, come diceva, ma ora dobbiamo cercare di promuovere, l'ente locale si farà promotore di questo, cercare di promuovere tutto quello e fare conoscere la pesca di turismo di Trabì a tutto il territorio, ma non soltanto, pure i turisti che vengono dalla Francia, dall'Inghilterra, da tutti i paesi d'Europa e oltre, perché questo è il nostro obiettivo. Voglio dire questo, che già siamo nell'attenzione di alcuni operatori del settore, ci sono imprenditori nel campo del turismo che verranno nei prossimi mesi a visionare e ad assistere alle pratiche della nostra pescaturismo e chi lo sa, io lo spero, sicuramente ci dobbiamo credere, che qualcuno credi in questa pratica, credi in questa forma di proposta turistica e per Trabìa sia veramente l'occasione di sviluppo che penso che meritiamo, ma più che altro cerchiamo. Oggi a Trabìa sono venute cinque delegazioni europee che fanno parte di questo progetto. Li porteremo alla porticione di San Nicola per fare toccare proprio con mano la pesca? Assolutamente, io questo lo voglio sottolineare e fare notare veramente bene perché si tratta di una visita fatta per un progetto che a quanto pare, sicuramente per avere ricevuto queste alte professionalità ha meritato, è un progetto che è riuscito. Quindi per noi è una cosa veramente molto più grande di noi, oserei dire. Quindi veramente siamo contenti e siamo felici di ricevere queste autorità. Ci sono rappresentanti addirittura della Commissione Europea, quindi capite bene per noi cosa significa. È la cosa che mi piace dire, per noi è un punto di partenza. Guai, se ci sentiamo arrivati, perché deve essere, lo abbiamo definito con chi lo ha progettato, lo abbiamo definito un evento sperimentale per essere da pilota ad altri progetti. Quindi ora la nostra scommessa è quella di presentare altri progetti, fare conoscere oggi e quest'occasione tutto quello che è il nostro territorio a questi altri funzionari della comunità europea e crederci sempre di più. Ecco, un segnale che viene oggi da Trabbia è che con l'Europa si possono raggiungere importanti obiettivi, l'Europa deve essere vista come un'opportunità, una grande opportunità per gli enti locali che oggi vivono delle situazioni finanziarie particolari. Quindi crediamoci, sviluppiamo le nostre idee, mettiamo in campo le nostre energie affinché arrivino progetti come quello di Trabbia. Adesso siamo con il rappresentante del Portogallo che è proprio quello che ha finanziato il progetto. Questo progetto qui proprio in Sicilia perché? Questi progetti di comunità locali, di comunità rurale, sono extremamente importanti per l'Europa perché mantengono l'identità e le industrie tradizionali dell'Europa vivere. Quindi è molto importante mantenere l'amore di Sicilia, l'amore dell'Europa, che sono le nostre comunità. Quindi l'Europa progetti di finanziare e proteggere la culturalità e la identità, la culturalità di comunità e la proximità con i locali comunità. L'importanza di Europa è stata base a locali comunità e non in Brunssi. L'importanza di questi progetti che coinvolgono non soltanto aree marittime come quelle di Trabbia ma anche aree rurali di tutta l'area del Mediterraneo sono importanti perché mirano a preservare e valorizzare l'eredità culturale delle comunità locali ed evitare che queste vengano inevitabilmente perse con il tempo e dimenticate. Quindi l'importanza di questi progetti europei è appunto la valorizzazione delle tradizioni, dell'eredità, del patrimonio culturale delle piccole comunità come quella di Trabbia e appunto delle loro tradizioni, in questo caso marittime. L'importanza dell'Europa è proprio rivolta alle comunità locali. L'Europa non è fatta a Bruxelles dalle autorità politiche ma è appunto fatta dalle piccole comunità come la nostra. L'Europa non è fatta a Bruxelles dalle autorità politiche ma è appunto fatta a Bruxelles dalle autorità politiche ma è appunto fatta a Bruxelles. L'Europa non è fatta a Bruxelles dalle autorità politiche ma è appunto fatta a Bruxelles dalle autorità politiche ma è appunto fatta a Bruxelles. L'Europa non è fatta a Bruxelles dalle autorità politiche ma è appunto fatta a Bruxelles. L'Europa non è fatta a Bruxelles dalle autorità politiche ma è appunto fatta a Bruxelles dalle autorità politiche ma è appunto fatta a Bruxelles dalle autorità politiche ma è appunto fatta a Bruxelles. Grazie.